Perché si bevono alcolici? Questa è una domanda che moltissime persone si fanno, specie chi ha a casa, quindi in famiglia, una persona o un uomo o una donna che purtroppo hanno problemi alcolici. Beh, diciamo che gli alcolici servono per dimenticare, si beve infatti per lo più per scordare le cose brutte che la vita ci ha trasmesso, si beve per lo più per cercare di non ricordare i momenti dolorosi. Molte persone utilizzano proprio questo pretesto per fare in modo di consumare in modo eccessivo e massiccio quindi gli alcolici. Gli alcolici che fanno male, questo va detto, se proprio bisogna bere un alcolico io vi consiglio di bere eventualmente una birra che non è tanto alcolica, non fa tanto male, ma anzi dicono che faccia veramente tanto bene visto che contiene la vitamina B, potassio, magnesio e tante altre sostanze che al corpo fanno veramente tanto bene. Bene è inutile farlo perché non serva a niente, tanto i problemi che ci sono purtroppo rimangono, anzi permangono, quindi è bene affrontarli senza buttarsi nell'alcol. L'alcol quindi serve solo ed esclusivamente per dimenticare le cose tristi, quindi le cose brutte che la vita ci ha eventualmente elargito. Bene, questa è la motivazione scatenante del perché si beve, il video termina qua, un saluto e a presto.